Allora, Pino Sacripanti, debutto domani in Champions League, basketball Champions League contro i Neptunas. Emozioni di questo inizio, di questo ritorno della Virtus dopo dieci anni in Europa? Beh, cerchiamo emozioni per due motivi. Il primo perché giochiamo la prima volta una partita ufficiale davanti al nostro pubblico e quindi abbiamo assaggiato quello che è giocare a paradosa davanti ai nostri tifosi con la fortitudo e quindi adesso c'è grande emozione nel sapere di fare una partita ufficiale. La seconda cosa perché dopo tanti anni la Virtus ritorna in Europa contro una buona squadra e quindi dobbiamo essere bravi immediatamente a resettare quello che abbiamo fatto in campionato o mettere subito la testa nella Coppa, nella partita ed è sobravo anche interpretare una gara con dei temi tecnici e tattici veramente molto diversi rispetto a quello che si vede in Italia. E' un campionato, campionato e Coppa significa costruire una squadra nuova però con impegni continui quindi come si affronta questo tipo di lavoro? Cioè anche viaggiando molto e cosa significa insomma per chi è dietro le quinte a costruire? Beh, significa che bisogna essere molto bravi come dicevo prima a resettare a mettere subito la concentrazione nella partita nuova a giocare una partita alla volta senza pensare poi chi è domenica o chi è la volta dopo e soprattutto essere molto bravo a trasferire ai giocatori da parte nostra e dello staff tra quattro concetti, due o tre concetti non di più per quello che riguarda la chiave tattica della partita e anche avere la capacità in corsa durante la gara nel modificare alcune scelte tecniche e tattiche perché si cresce non tanto adesso stando tutta la settimana in palestra ma bisogna crescere anche prendendo dalle esperienze del gioco. Allora c'era una vecchia pubblicità diceva il segreto di tutto è una buona partenza campionato e Coppa sono due cose diverse però in campionato si è partiti con una vittoria in trasferta che può dare morale, può aiutare da questo punto di vista degli stimoli. A me non interessa tanto, a me interessa vincere le partite per avere due punti perché come ho detto più volte nel campionato ci sono 30 gare e una partita vinta o una partita persa di uno o di meno uno ti può cambiare alla fine di tutto l'entrata nella Coppa Italia quindi noi dobbiamo essere molto sereni di fare quello che dobbiamo fare dando sempre 100% per vincere le partite poi tutto il resto sono giustamente cose che si dicono si pensano, si fanno voi giornalisti le amplificate i tifosi ne parlano però bisogna essere molto bravi a risettare tutto non fa singolosie dalle classifiche o dalla partenza buona o non buona bisogna provare a vincere tutte le partite una per uno, sapendo che sono tutte molto importanti. Hai detto all'inizio, chiudiamo con questo l'importanza di iniziare questa Basketball Champions League di fronte al proprio pubblico e al paladosa quindi sarà un'arma in più, un aiuto in più? Ti ripeto quello che ho detto prima nel senso che noi abbiamo avuto un assaggio di quello che è il paladosa, il nostro pubblico la partita con la fortitude ne siamo rimasti tutti quanti emotivamente molto coinvolti e molto emozionati e anche positivamente impressionati adesso è chiaro che giocare in Europa è banale dirlo però il pubblico è un'arma e un fattore molto importante e allora Grazie a tutti